Beh, la differenza è evidente, molto più chiaro e molto più scuro, eppure la tavoletta è la medesima, le due incisioni sono molto vicine, quindi anche i tratti del legno non possono essere poi molto difformi. I parametri di incisione sono gli stessi, identici sia per potenza che per velocità, e non c'è nessun pretrattamento, la tavoletta è come uscita dalla fabbrica. E allora cosa è successo? È successo che per fare questa incisione abbiamo usato i distanziatori in messa a fuoco della mia macchina, che è uno Sculpfan S30 Pro da 10 W, che misura esattamente 50 mm. Ok? Mentre per fare quella di destra, ossia questa, molto più scura, abbiamo alzato la messa a fuoco di 10 mm di un centimetro. Infatti abbiamo utilizzato questo supporto che mi sono realizzato proprio per andare a avere un distanziatore casalingo. Vedete? 60 mm. Ok? La messa a fuoco differente ha portato questa differenza di incisione molto più scura. Attenzione però, questa tecnica non la possiamo utilizzare quando ci servono delle incisioni precise a millimetro, perché avendo messo una messa a fuoco che non è quella impostata del laser, quella giusta, cosa comporta? Comporta che l'incisione presenta degli artefatti, ci sono delle piccole difformità. Se andiamo a misurare il diametro, che dovrebbe essere uguale, in realtà ha qualche decimo di millimetro diverso. Quindi quando dobbiamo avere delle incisioni precise, sicuramente non possiamo utilizzare questa tecnica. Altra cosa a ricordare è che se poi dobbiamo tagliare la forma, bisogna ovviamente abbassare la testa del laser alla distanza giusta e poi andrebbe a comportare uno spostamento, quindi dovremmo fare delle regolazioni per andare a tagliare esattamente sull'incisione. Se dobbiamo fare invece delle semplici incisioni, questa tecnica va benissimo. Poi magari un cartello che dobbiamo tagliare alla sega o via dicendo. La velocità è la stessa, non impiega più tempo, non serve nessun pretrattamento. Unica cosa, conviene finalizzare con un spray trasparente acrilico, perché comunque lascia un po' di bruciatura. Vedete, avevo fatto queste altre prove. 50 è la distanza del laser, quella standard. Poi sono aumentato di 2 mm, ma si notava poco. Di 4 si notava ancora poco. 8 ha iniziato a notarsi abbastanza. 12 si è notato, però ha rappresentato degli errori. Ci sono dei caratteri che non sono venuti benissimo. Quindi per fare questa prova ho deciso la misura di 10 mm di differenza, un centimetro. Questa è la misura più giusta per il mio laser. Voi dovrete fare delle prove col vostro laser. Spero che il video vi sia piaciuto. Una tecnica velocissima, semplice e semplice. Anche il video è stato veloce e semplice. Per questo, se vi è piaciuto, vi chiedo come sempre un bel like e l'iscrizione al canale. L'iscrizione al canale per me, per noi, è importantissima. A presto, alla prossima. Ciao.